La storia d'amore più chiacchierata dell'anno è volta al termine. Già perché Manuel e Lulu si sono lasciati e il nuotatore ci ha tenuto a farlo sapere addirittura con una nuotanza. Mentre Lulu conferma tutto ai suoi fan tramite una diretta. Ma dopo poche ore dalla rottura Manuel viene subito avvistato in compagnia della sua ex fidanzata. Ecco che lo vediamo ad una festa volto a bere un drink insieme alla sua ex che abbiamo conosciuto proprio al grande fratello. Lulu ha spiegato che la fine della loro relazione dipende dalla famiglia di lui che ha fatto di tutto per metterli l'uno contro l'altra. Già nei giorni passati abbiamo visto il fratello di Manuel, Kevin, insieme alla ex fidanzata di Manuel scherzare con un filtro che gli rendeva le labbra eccessivamente grandi. Forse volto ad offendere e denigrare proprio Lulu? Intanto Manuel non sembra disperarsi troppo e si consola già con la sua ex fidanzata. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!